La città piange queste due persone che erano molto amate, due dipendenti modello, due padri di famiglia e due ottimi cristiani. Ci piace ricordarlo soprattutto anche sotto questo aspetto perché la nostra città sa esprimere anche delle bravissime persone dal punto di vista del lavoro, della famiglia e della fede, tutti e due molto impegnati, molto attivi, molto vicini alle nostre istituzioni, vicine alla Chiesa e perciò da una parte il rimpianto è perso delle bravi persone ma la certezza come cristiani, come credenti che sono in buone mani. Bandiare listate a lutto nel giorno dell'ultimo saluto a Piero Bruni, una delle due vittime morte all'interno della sede dell'archivio di Stato per questa fuga di gas Argon. Il funerale invece di Filippo Bagni si terrà mercoledì in cattedrale alle ore 11. È lutto cittadino? Oggi insomma Rezzo ricorda queste due vittime? Sì, le ricorda oggi, le ricorderà anche domani perché per volere delle famiglie i due funerali si svolgono in due giorni diversi in modo da consentire ai colleghi di lavoro ma anche ai cittadini di attendere la cerimonia in entrambi i casi. È una dolorosa ricostruzione questa di questo evento. Io spero veramente che si riesca a capire con certezza quello che è avvenuto non soltanto per cercare responsabilità, io non sono un giustizialista, ma soprattutto per evitare che si ripetano fatti come questo perché di archivi o di locali protetti da sistemi antincendio di quel tipo ce ne sono tanti, ne abbiamo uno anche nell'amministrazione comunale e quindi sapere quali sono le criticità che possono portare e non devono portare più a eventi come questo è essenziale.